A coltellato alla schiena una lite tra africani è degenerata in via Torricella, ferito un 29enne senegalese, nessuna traccia dell'aggressore. Calcio malato, blitz della finanza, tra le 41 sedi di società perquisite su ordine della procura di Napoli c'è anche Piacenza, acquisiti i contratti del 2008 di Guzman e Graffiedi. Fiera di Sant'Antonino, percorso confermato, 380 bancarelle pronte ad invadere il centro di Piacenza in occasione del patrono, le manifestazioni collaterali iniziano giovedì. Provincia, vendite e tagli di stipendi, dal primo luglio presidente e assessore rinunciano al 10%, annunciata la volontà di cedere le quote di Centropadane, Piacenza Expo e Seta. Trasporti pubblici, 16 nuovi autobus, presentati nuovi pullman ecologici di Seta che ringiovaniscono il parco mezzi della società. Barista dell'anno, domani il tagliandone, continua il gioco estivo del quotidiano Libertà, domani in edicola il maxi tagliando da 20 punti.